Ciao ragazzuoli, oggi eccoci qua con un video unboxing, il mio primo video unboxing, sì. Allora, di cosa si tratta? Allora, questo è il pacco che mi è arrivato, facciamo vedere bene il pacco, spero dalla Nintendo, adesso vediamo. Oggi è il secondo già unboxing, anzi unboxing, perché mi sono già arrivati i due giochi che avevo preso. Il primo è Pokémon Blue edizione giapponese, bellissima. E poi One Piece per il Game Boy Color. Speriamo che anche questo pacco sia un pacco velo, ho tolto il mio nome, cognome, dritz e via. Esatto, eccolo qua. Cosa ho ordinato? Allora, il CD di Animal Crossing, il CD di Animal Crossing. Ho 2000 punti da spendere, abbastanza bellino, vediamo. Take a music trip to the city. Animal Crossing, let's go to the city audio team, vabbè. Molto carino, immagini tutti gli Animal Crossing qui. Non ho giocato sinceramente all'Animal Crossing, ma avevo 2000 punti e mi sembra una cosa più simpatica. Magari dopo farò un video con tutte le musiche. Ok. Poi, poi, poi. Vabbè, questi sono i pacchi, così che non c'è più niente. Eccoci qua. Caro fan Nintendo, grazie per il tuo acquisto e il nostro star catalogo. Speriamo che il prodotto che hai scelto sia di tutto gradimento. E per adesso sì. Vediamo. Uno ci ha azzeccato. Ok, Disney, saluti. Il tuo team Nintendo. Perfetto. Poi, questo era il pezzo forte, diciamo, perché ragazzi, non poteva prendere niente. Ho speso questi punti perché proprio dovevo... stavano finendo le star del catalogo. Questa, va che bella roba. Facciamo vedere. Una cartelletta. Con Bowser e il pallottone. Stravella. Attento di aprirla, ma... Non si riesco ad aprirla. Una ne apre. E allora si riesce a aprire. Serve un unboxing di quelli fatti bene, diciamo. Ah sono due perfetto Una col pallottolone Vediamo dall'alto Una col pallottolone Dove ci puoi mettere qualsiasi tipo di cosa 400 stelle Mi pare E quello l'altro con Bowser Sempre 400 Ok Poi che cosa L'altra Un'altra di questo che era molto carina Questo invece era anche un segnalibro Un segnalibro di Super Mario E poi il tema Tutti i personaggi Principali Tutti i principali Vabbè quelli buoni diciamo Andiamo Bellini E uno o due Apriamo sono curioso Sono curioso Ah no sono due Uno è qua E uno qua di segnalibro Perfetto Due segnalibri Poi che cosa Eh è forte Devo prendere Un calzino Mille punti Questo Però vabbè Ne è valsa la pena Originalissimo Cioè bellissimo Proprio Avere qualcosa del Club Nintendo Fa brutto No vabbè Sono belle cosette Poi Arrivate gratuitamente Fan sempre piacere Dicevano Vabbè allora dai Dato che ci rimane un po' di tempo Procediamo anche alla spacchettatura Di sto gioco Sto gioco Sì ciao Sto cd Vediamo Dove si apre Dove si apre Anzi non so se lo voglio aprire Così carino Tenerlo chiuso Ma che bello Qui in cielo fa Tutto bello Va bello Lo farò un'altra volta Il video Vi spacchetto questo Se volete Vabbè quindi con 400 400 200 2000 Quindi 800 Sono 3800 di roba Facciamo vedere Molto carina Carinissimo anche questo Vabbè Vi ringrazio per aver visto questo video E ci vediamo con il prossimo Gameplay di Super Mario Ciao ciao